Benazir Bhutto è tornata in Pakistan dove mancava da ormai otto anni. L'ex primo ministro è atterrato questa mattina a Karachi dopo anni di esilio volontario. È arrivata a bordo di questo aereo proveniente da Dubai. Velo bianco in testa e abito verde ha salutato la folla che l'aspettava. A casa mi sento molto bene, le sue prime parole pronunciate in lacrime. L'evento era attesissimo nel paese. Decine di migliaia di persone sono scese in strada per accoglierla, ma sono molti anche i nemici pronti a colpirla, in particolare i terroristi legati ai talebani e ad Al-Qaeda che l'hanno già minacciata di morte. Imponenti per questo le misure di sicurezza. La Bhutto, primo ministro per due volte, dall'88 al 90 e poi dal 93 al 96, aveva lasciato il paese nel 99 dopo essere stata accusata di corruzione. Lo stesso anno il generale Musharraf prese il potere con un colpo di Stato ma ora proprio grazie all'accordo raggiunto con il generale alla Bhutto è stata concessa la grazia. Rientro per cambiare il mio paese e per portare la democrazia, ha detto, ma l'ex premier dovrà spartire il potere proprio con il generale Musharraf.